La Toscana sta reggendo su dati da zona gialla, ormai anche questa seconda settimana si accompagna a dei dati che sono sempre minori. Ieri abbiamo potuto fare il computo dei dati settimanali, 2.901 sono stati i contagi. Per ritrovare un dato così basso dobbiamo ripercorrere la vicenda della pandemia in questi mesi fino all'11 di ottobre. Sono numeri che invitano all'ottimismo quelli che il presidente della regione Eugenio Gianni snocciola sulle scale della scuola normale di Pisa durante la sua prima visita istituzionale nel centro di eccellenza dalla sua elezione. L'atteggiamento di avanguardia della Toscana è stato confermato dal CTS, dal Comitato Tecnico Scientifico. Ci hanno portato a rimandare le scuole medie sul clondario e superiore a scuola. È stato un risultato indubbiamente molto positivo perché non ne ha risentito minimamente l'andamento dei contagi. Si viaggia sui decimali con l'occhio che segue attento le oscillazioni dell'indice RT, quello che ci può ributtare in zona arancione già dalla prossima settimana. In un centro di ricerca d'eccellenza come la scuola normale è facile fare il collegamento con i vaccini e con il problema dei vaccini dopo la sospensione, dopo il ritardo nella fornitura da parte di Pfizer. I primi 610 vaccini furono somministrati il 27 dicembre, quindi siamo proprio oggi il 18 nella prossimità dei richiami. Proprio per questo le scorte che avevamo lasciato su indicazione del commissario Arcuri a questo punto non la somministriamo su nuovi vaccinati ma invece sul richiamo che deve essere dopo 21 giorni perché se perdiamo il richiamo perdiamo anche l'efficacia del primo vaccino di 21 giorni fa. Grazie a tutti.